benvenuti ben ritrovati res pubblica sicilia chiama europa questo oggi suddivisa in due parti nella prima sono con il vice sindaco di trapani enzo abbruscato ben ritrovato abbruscato come va l'importante esserci l'importante cercare di essere utili insieme per la nostra collettività beh io sono un po raffreddato obiettivamente questo primo venticello autunno di fine autunno cambio di stagione si sente anche dalla voce ma parliamo invece subito della vicenda del momento insomma di questi ultimi giorni c'è un problema ormai assodato con tanto di sospensione del servizio che riguarda appunto il servizio di mensa per gli studenti delle scuole trabanesi che fanno l'orario continuato in questi giorni appunto avete sospeso il servizio per una questione burocratica soprattutto ma non solo so che sono susseguite delle riunioni che cosa succede da qua a qualche giorno ma l'amministrazione ha voluto fortemente implementare i numeri appunto sono necessari per fornire i pasti ai ragazzi ai nostri ragazzi nella nostra scuola lo dico anche con un po di orgoglio la nostra amministrazione ha fortemente voluto incrementare questo servizio nel 2019 erano 320 i bambini che facevano l'orario prolungato adesso sono quasi 700 quindi è anche un motivo di orgoglio significa un'offerta formativa migliore significa che le famiglie possono stare più tranquilli il bambino sta a scuola fino alle 16 certamente quando succedono queste cose di cui adesso parleremo non è una bella cosa è un forte disagio anzi perché se io ti ho garantito un servizio te lo devo dare l'amministrazione ha fatto ciò che era dovuto ed era giusto fare cioè le procedure di evidenza pubblica si fanno le gare le gare poi trovano la giudicatario la giudicatario deve avere il massimo delle garanzie per poter dare un servizio di tale delicatezza e vorrei dire di tale importanza purtroppo ed è la cosa più importante che dobbiamo sottolineare colgo l'occasione e ti ringrazio per la domanda io credo che al primo posto va la tutela dei bambini la sicurezza è quello che serve e quando c'è qualcosa che può mettere in dubbio questo la prima cosa da fare è interrompere ovviamente non siamo stati con le mani in mano ci siamo dati da fare abbiamo chiesto tutto ciò che è possibile io personalmente sindaco non solo riunioni e confronti tipo in ultimo con i dirigenti ieri ma abbiamo voluto proprio capire come è nostra abitudine senza demandare troppo ad altri quello che si può fare io personalmente ad esempio avevo anche proposto un'alternativa che può piacere o meno c'è un servizio che si chiama non voglio fare pubblicità però è un marchio depositato figuratevi che questi ragazzi che l'hanno inventato si chiama break up che l'hanno inventato hanno un protocollo di intesa con la regione siciliana quindi è una cosa molto seria io ho avuto modo di conoscerli abbiamo fatto anche un protocollo di intesa come comune di Trapani qualche anno fa perché credo che questo sia il futuro e cioè si dà la possibilità al cittadino al genitore di poter far fornire appunto un pasto giusto al bambino direttamente a scuola con duplice vantaggio tu sai direttamente quindi tramite l'applicazione cosa porteranno al bambino perché lo ordini il centro di cottura di questo pasto spesso è vicinissimo alla scuola dove si trova il bambino secondo me c'è un doppio vantaggio uno è che sai sempre da dove viene e in che orario secondo c'è una suddivisione del rischio nel senso che la cosa è fare per esempio un riso per 750 bambini la cosa è farlo solo per le scuole sto facendo un esempio del centro storico che sono 150 bambini la stessa cosa per i bambini della zona Trapani Nuova ci sarà un altro centro di cottura perché break up fa delle convenzioni con i ristoratori e con gente che fa questo lavoro ovviamente con massimo delle garanzie questa era un'idea ma torniamo al problema originario noi abbiamo fatto quello che era giusto fare ma un servizio di genera si può dare in affidamento diretto? Allora l'affidamento diretto lo si può fare qualora adesso noi proprio in queste ore entro stasera noi stiamo registrando di mattina è giusto dirlo ma entro stasera dovremmo sapere se l'ASPE dà la liberatoria per iniziare ricominciare il percorso interrotto qualora fosse così tutto a posto se così non fosse noi dobbiamo sicuramente fare delle alternative le alternative quelle che consente le norme vigenti sono l'affidamento diretto secondo soia oppure fai una gara che più o meno ti prende il tempo che ci vuole io mi assumo la responsabilità sapete non mi nascondo mai non credo che siano tempi velocissimi noi siamo oggi 26 di novembre io non credo proprio che si possa dare un servizio prima di due o tre mesi è inutile prendersi in giro se devi fare il nuovo bando l'affidamento diretto è molto più breve ma attenzione escludo che si possa iniziare prima delle veste di Natale quindi sicuramente il disagio c'è io è giusto dire quindi che frattempo ai bambini che fanno? frattempo noi abbiamo detto ai dirigenti che nella situazione posta nelle condizioni in cui consentitemi siamo andati a finire io non lo dico per evitare colpe ma è la verità noi non abbiamo nessuna colpa nessuna colpa anzi noi abbiamo ripeto per l'ennesima volta come primo obiettivo la sicurezza dei bambini sicurezza dei bambini significa massimo zelo abbiamo istituito in tempi non so spetti la commissione mensa io lo voglio ricordare quindi i cittadini i genitori possono partecipare attivamente al percorso di controllo credo che sia un aspetto importante della democrazia è una cosa che abbiamo voluto noi non voglio detto bravo ma ci credevo ed è giusto che sia così ma le procedure vanno rispettate e nella procedura che stiamo avendo è giusto ormai aspettare quello che dicevano però da quello che mi risulta o meglio che voi avete in questo senso dichiarato parliamo di circa 12 bambini su trapani sui 700 errotti e passa quasi 750 di tutto il territorio comunale che hanno avuto queste difficoltà per possibili tossinfezioni insomma alcune allergie e si interrompe con il servizio? sì perché l'ASPA ha riscontrato l'ASPA ha fatto un controllo su chi gestisce il servizio e ovviamente fa dei controlli a campione e sono delle cose molto serie in cui non solo devi avere fiducia non puoi che avere fiducia l'ASPA è di tutti l'ASPA è una garanzia per tutti e noi dobbiamo attenerci al risultato che ci viene poi noi abbiamo fatto veramente tutto ciò che ci era consentito io ringrazio anche la disponibilità dei dirigenti scolastici e mi scuso per il disagio che stiamo arrecando perché vedete il percorso è di una semplicità cioè io invito noi l'amministrazione e il sindaco in questa cosa non solo mi ha appoggiato ma ne è orgoglioso noi abbiamo voluto fortemente incrementare i numeri dell'orario prolungato e lo fai a gennaio e cerchi di... e proprio spingi il dirigente a fare il più classico l'orario prolungato perché significa crescere meglio significa una comunità migliore noi siamo convinti di questo percorso e non vogliamo tornare indietro e ripeto se da 300 arrivi a quasi 700 nell'arco di 3-4 anni è perché evidentemente la risposta è stata positiva è perché noi ci crediamo perché il bambino cresce meglio non va a casa e poi ritorna a scuola o peggio ancora non può fare l'orario prolungato è chiaro che quando succedono queste cose dobbiamo attenerci ai profili di sicurezza però non è risposto che cosa sta succedendo per i ripasti nel frattempo a scuola? significa che è chiaro che il bambino deve rimanere ormai almeno finché non si fa una decisione definitiva deve rimanere fino alle 16 e i dirigenti stanno autorizzando a poter portare qualcosa da casa mi sembra ovvio qualora dovesse rimanere in questo stato di cose il consiglio di circolo decide in maniera ovviamente autonoma è nostra intenzione nel caso in cui non si dovesse riprendere immediatamente il servizio e quindi nell'emore di fare un'altra gara io aspico un comportamento uniforme per tutte le scuole e questo è quello che insieme al sindaco e cioè cercare di o incentiviamo quello che ho detto prima break up ma quello è un percorso che noi avremo modo di spiegare insieme al sindaco stiamo pensando di fare una riunione pubblica con tutti i genitori e io credo che sia il caso e sia bello anche farlo insieme ai dirigenti scolastici oppure cercare di regolamentare anche questo percorso finché non ci sarà la nuova gara però ripeto mentre stiamo parlando stiamo attendendo l'esito definitivo e io voglio essere fiducioso devo guardare al positivo assolutamente sì è anomalo quello che sta succedendo i nostri funzionari e dirigenti sono giustamente allarmati lo siamo noi in primis il messaggio che do ai cittadini e ai genitori anch'io sono genitore anch'io ho avuto bambini che frequentavano le menze e gli asili la vostra preoccupazione è la nostra e la sicurezza è al primo posto il resto viene dopo vi hanno dato rassicurazioni dalla ditta? le rassicurazioni me le deve dare l'ASP che è l'organo terzo e l'organo preposto per dire che le cose vanno bene ma si può capire il problema in che cosa consiste? il problema sicuramente è più articolato di quello che si può pensare a prima vista ce lo spiegheranno sicuramente meglio fatto sta che se tu hai detto di numeri 12 bambini potrebbero essere pure 3 la sicurezza ripeto per l'ennesima volta prima di tutto quindi noi dobbiamo arrivare al punto che bisogna essere certi di dare il servizio migliore possibile poi può succedere di tutto ma non può assolutamente che essere qualcosa di eccezionale noi dobbiamo invece portare le cose secondo le norme vigenti e secondo consentitemi la fiducia che il cittadino deve assolutamente sentire quindi per riassumere a parte oggi dovrebbe arrivare appunto una riposto questione di ora dalla settimana prossima in qualche maniera si provvederà ad un'alternativa noi già l'abbiamo proposta però quella proposta che ho fatto io che abbiamo fatto insieme al sindaco passa obbligatoriamente dalla accettazione da parte dei dirigenti ma il cittadino è giusto che sappia c'è un'alternativa che in altre città già sta andando avanti Agrigento, Palermo ripeto c'è un profilo già io sono convinto che sarà il futuro ma chissà di quale futuro parlo magari fra qualche anno va bene le scuole a Trapi ha tirato la questione a mezza come sono obbligate? le palestre non ne abbiamo? no le palestre delle scuole magari quelle consentitemi di dirlo abbiamo provveduto per tempo a metterle in sicurezza nonostante quando siamo arrivati non stavano benissimo certamente non c'era la situazione disastrosa delle altre palestre io colgo l'occasione anche perché la notizia è pubblica non sono certo il primo a dirlo siamo stati i primi a farlo notare da quella situazione 12 giugno 2018 adesso sicuramente abbiamo provveduto a fornirci di risorse noi abbiamo un finanziamento certo, vero argent per quanto riguarda money in inglese si a me piace il francese e comunque di sordi ecco risorse vere di munita per fare finalmente la palestra Dante Alighieri per capirci il giapponese abbiamo pizzicato seriamente le risorse per l'efficientamento energetico della piscina di Via Delente Alberti colgo l'occasione per dire che la piscina di Via Delente Alberti era lì lì che stava aprendo perché l'uno di ottobre era già stato stabilito e con nostra particolare non dico pressione ma accordandoci con il gestore per quanto riguarda il problema della gestione energetica perché vedete i cittadini direttore in tutta Italia e in particolare purtroppo in Sicilia ci sarà un motivo se su 100 piscine 98 sono chiuse e il motivo è che i gestori perché abbiamo fortemente voluto in lo tempo io ero consigliere comunale che non fosse capibazzo a pagare le spese della gestione della piscina ma che era un gestore secondo i criteri di una giudicazione di una gara a evidenza pubblica dovesse portare avanti un bene che è del comune bene se il gas da 0,20 diventa 1,40 perché questo è stato vero e se l'energia elettrica come sappiamo bene noi nelle nostre case è triplicato il costo è evidente che un gestore di un'azienda pubblica ha dei problemi se questi due fattori sono al primo posto per quanto riguarda il regolibro economico di un'azienda che deve assolutamente pareggiare perché se non pareggia fallisce e mi chiude quindi mi fa un doppio danno l'1 di ottobre eravamo pronti per aprire voi sapete che il 26 c'è stata una forte precipitazione per usare un eufemismo in questa città che ha portato molti danni e che in particolar modo ha messo sott'acqua tutti gli impianti tecnologici della piscina dico tutti e che siamo riusciti a salvarne qualcuno in queste ore avremo anche lì una soluzione io credo che apriremo perché le pompe e le caldaie sicuramente saranno riattivate ma è pur vero che il percorso è stato tortuoso e comunque non siamo stati nemmeno lì con le mani in mano tant'è che abbiamo finalmente e questa è certezza questi sono soldi abbiamo l'efficientamento energetico pronto per questo impianto che lo aspettava da tanto tempo poi l'amministrazione si è mossa anche in altre cose parlavi tu prima delle palestre scolastiche è chiaro che quando sei in quella situazione e l'associazione ti chiede un aiuto doveroso perché fare sport non è solo un piacere è anche un profilo diciamo di aggregazione della nostra comunità e se non hai luoghi dove fare sport diventa un problema abbiamo cercato di aprire tutte le palestre scolastiche dopo le tre quindi dopo l'orario didattico a tutti quelli che lo chiedono tutti quelli possibili abbiamo cercato di aprire tutte le palestre scolastiche non bastano sicuramente stiamo cercando di recuperarne altre abbiamo preso anche qualche qualche finale come ci sono questi bandi noi partecipiamo sempre c'è quando arrivi lì lì c'è quando arrivi più indietro come nel caso ad esempio del della palestra Pinco della Dante Lighieri siamo riusciti la stessa cosa per la piscina abbiamo in cantiere nel senso che dovrebbe arrivare il decreto per un finanziamento anche per l'illuminazione del CONI che sembra una cosa da poco conto il CONI siamo arrivati noi ed è scaduta il collaudo della gradinata siamo riusciti a farlo siamo arrivati noi e c'erano i tetti sfondati io dico lo vorrei ricordare degli spogliatoi li abbiamo recuperati adesso funzionano le docce adesso c'è la casa del custode stiamo cercando di portare attenzione la normalità non dico vette da Everest la normalità ma la normalità in un contesto mi dispiace ricordarlo ma è una fotografia di appena qualche anno fa perché non ci percepisce fuori non si percepisce perché distruggere ci vuole pochissimo io ricordo una pagina brutta di questa città io ero un consiglio comunale la storia lo può dire ero in opposizione sì ma a volte non c'entra niente essere in opposizione ma c'entra dire le cose per cui sei convinto di poterle dire io all'epoca dissi pubblicamente che quell'andazzo cioè la decisione di non consentire alle associazioni che avevano in affidamento tutte queste palestre compresa la tenente Alberti dimenticavo aspettiamo il decreto per avere un milione e più per poter sistemare anche la tenente Alberti che è un edificio storico perché ospitava anche le partite della della pallacanescio chiuso la parentesi dico che a quell'epoca sto parlando del 2017 io denunciai che quella era l'anteprima della distruzione di tutti gli impianti sportivi perché se tu lasci gli impianti sportivi senza il controllo di chi lo gestisce verranno vandalizzati dicevo la storia mi dice che abbiamo più di 10 milioni di euro di danni per quella scellerata decisione in capo a due dirigenti di quella amministrazione che io ho cercato di ovviamente fermare ricordo mi dispiace pure ma due giorni prima delle elezioni l'ultimo atto vandalico alla via dell'Ente Alberti quello fu un messaggio di guerra queste cose forse la gente forse le dimentica voi avete i documentari di queste cose non è una giustificazione non è nemmeno un attenuante è la verità distruggere ci vuole pochissimo direttore poco per ricostruire dato che le risorse degli enti locali sappiamo tutti da Venezia fino a Trapani non sono granché devi attingere a qualcosa di diverso perché ormai il bilancio comunale è ingessato e tu devi dare i bisogni necessari e prioritarie alla gente ai tuoi cittadini non puoi fare il costruttore di qualcosa devi attingere come l'amministrazione Cianchita sta facendo come il sottoscritto sta tentando di essere utile in questo caso per gli impianti sportivi dato che parlo dei impianti sportivi ma potremmo parlare anche delle scuole abbiamo preso il finanziamento per fare la scuola nuova in via Erodoto beh anche lì non è un'attenuante ma una scuola fatta nell'83 noi abbiamo scuole fatte negli anni 40 che sono perfette quella scuola fatta nell'83 che fa la sorella a quella scuola che c'era in via Duca d'Aosta quella già distrutta perfetto stessa fine dopo 37 anni da consentitemi da eliminare da a parte che poi anche lì è ovvio che avendo il finanziamento la devi demolire quasi 6 milioni di finanziamento quello che è un'altra scuola deve avere quella scuola e noi la lasceremo evidentemente ai posteri o speriamo di essere ancora noi ad amministrarlo però in via Erodoto tornerà un'altra scuola e anche quello è un motivo di orgoglio abbiamo fatto per le scuole ad esempio l'efficientamento energetico non si faceva da decina di anni la sicurezza dei bambini passa da piccole cose anche perché se non hai l'efficientamento energetico non puoi nemmeno partecipare lo sai a PNRR a qualsiasi forma di finanziamento abbiamo fatto delle scelte abbiamo fatto delle scelte ponderate che avranno i suoi frutti nel corso degli anni io lo capisco chi mi vuole male mi dice ah bambini sportivi io lo capisco la politica è fatta anche di polemica e sicuramente sono anche pronta a dire che si poteva fare di più perché guai a dire che non puoi fare di più chi vuol dire che hai fatto tutto non credo che ci possa essere un amministratore pubblico in Italia e in Europa che dice che ha fatto tutto perché non è vero dobbiamo dire che nelle condizioni poste e con gli strumenti che hai senza affossare e indebitare troppo chi verrà dopo di te anche perché le leggi cambiano devi fare quello che ti è possibile ed è quello che stiamo stiamo tentando di fare per rimanere voi quelli che che verrete dopo di voi allora mi conosci lui mi ha detto non parliamo di elezioni no mi conosci bene io è chiaro che uno è proiettato al futuro perché l'amministrazione è una ruota che gira io mi mi lamentavo qualche anno fa di di chi non lasciava niente a chi veniva dopo di te non so se ti ricordi questo sicuramente non è il caso nostro perché centinaia di milioni di finanziamenti di progetti apri i cassetti e trovi qualcosa da poter da poter candidare questo è già una gran cosa e certo qualche un po' di personale in più questo non mi dispiacerebbe dai vigili urbani anche a semplice tecnico che semplice non è e anche all'amministrativo anche lì sicuramente le procedure sono di una lentezza incredibile per non dire altro ma la pubblica amministrazione dovrebbe avere di procedure dovrebbe ha bisogno di procedure più snelle che non ci sono perché altrimenti rischi di incorrere in qualche scivolone e noi scivoloni non ne vogliamo fare voi mi conoscete che per me la trasparenza viene prima di tutto Vice Sindaco una domanda ritorno un attimo sugli impianti sportivi è ritornata in questi giorni io ho scritto un articolone sullo giornale ma magari ne dimentico altri non c'è dubbio ho scritto un articolone su questa petizione di un comitato cittadino per intitolare o dedicare insomma il palasporto parailio a Daidone assolutamente sì a Ettore Daidone credo si chiamasse sì io grazie della domanda lo facciamo oppure no? lo facciamo il Sindaco ha già deciso che lo faremo colgo l'occasione per dire che denomineremo non solo il palailio ma anche altri impianti non dico i nomi per correttezza ma il pattinodromo per esempio a proposito pattinodromo abbiamo recuperato il pattinodromo era perso il pattinodromo questo se permettete insieme un dirigente insieme al Sindaco credo di essere veramente promotore di aver risolto questo problema chi fa quello porto sa che ci siamo veramente adoperati per restituire alla città qualcosa di bello qualcosa di unico da Napoli in giù è tutto pronto per affidarlo alla federazione dico tutto pronto abbiamo fatto l'auto lo è da un po' lo è no ma è tutto pronto adesso proprio nella procedura finale aspettiamo l'atto definitivo e poi come mi dice qualcuno il nastro da tagliare può anche darsi ce lo meritiamo forse però ormai dovrebbe essere pronto quindi da qua a giugno chissà quanti nastri no io questo veramente ci teniamo perché è davvero diciamo che era perso dai era perso quindi chi fa questo porto sa che sto dicendo la verità e che se io non dicessi la verità vi sfido in pubblico a dire il contrario e denomineremo anche il il patinodromo anche il coni sì sì assolutamente sì faremo o un unico decreto o diversi decreti il sindaco sta valutando e noi crediamo che anche questo passa da una come dire un confronto con il cittadino per poter per poter dare anche dei nomi a gente che merita di essere ricordata come esempio hanno fatto per lo stadio no io mi spiace quel giorno non c'era quello è anche anche quello anche quello dedicato a Basciano sì va bene chiudiamo queste luminarie ho visto già siete pronti come comune abbiamo ritenuto che che è successo quest'anno non è che è successo cioè vedi siete campagna elettorale quindi facciamo subito le luminarie così la gente si calma un po' lo sai che io non non mi piacciono le scorciatoie le scorciatoie non mi piacciono la campagna elettorale per come la intendi tu un amministratore io provo un amministratore che ritiene che quello che fai è giusto a prescindere dal momento in cui lo fai io credo che beh se sei convinto di fare una cosa la devi fare basta le luminarie tu sai che io non sono fra quelli che impazzisce per le luminarie però è sicuramente un momento di familiarità se vuoi e addobbare nelle strade cittadine la luce costa assai ma comunque siamo riusciti facendoci aiutare anche da sponsorizzazione perché questa è la cosa più importante di poter dare qualche risposta giustamente ai commercianti che sono fra virgolette ancora arrabbiati io come sai non cerco scorciatoia e speriamo che ci sia una ripresa di tutto il settore produttivo e quindi del commercio nei giorni il giorno e poi nei giorni successivi al primo alluvione insomma di fine settembre ti ho visto davvero disperato diciamo te lo dico così in amici ma guarda ti ho visto davvero nero lo dico lo dico da Trapanese è nato in via degli stabilimenti quindi Lago Cepè quindi Palazzo Venuti dove praticamente ho vissuto per 40 anni conosco tutte le fognature posso dire anche quelle che non c'erano io sono convinto che quello è un posto che si allegherà sempre quella zona perché l'acqua che viene da Erice non trova deviazioni io ho una foto che conservo te l'ho fatta vedere il muro della della Giannettino questa volta non è caduto perché a differenza di qualche anno fa adesso ci sono i buchi da cui fuoriesce l'acqua perché due metri di acqua dietro quel muro dove ho avuto la fortuna anche di fare militare per un periodo non si può ottenere quella è tutta l'acqua che scende da Erice Ex Lago Cepèo certo quest'anno è successo qualcosina in più non vado a nascondermi sicuramente ma ci sono zone della nostra città che sono soggette sicuramente più del resto anch'io penso che l'assenza o la non più esistenza del canale di Scalabrino nell'acqua di Erice abbia influito e quindi va in via Marsala sì mi hai visto distrutto perché io amo la mia città come è normale e quindi quando succedono queste cose e sei amministratore e hai comunque la responsabilità di certe scelte quello è sono brutte giornate che non puoi non ricordare che ti servono anche per crescere te lo dico anche con tutte le parolacce che ho ricevuto e anche comunque che minaccia perché la disperazione porta sicuramente anche a essere coloriti non solo nelle espressioni ma anche nei comportamenti però è pure vero che la responsabilità vuole che quando si cresce e sei ovviamente conosciuto bisogna comunque prendersi sempre le responsabilità grazie vice sindaco ci rivediamo grazie a voi aspettiamo di sapere come finisce con l'ASP per la mensa domani lo sapremo assolutamente la Repubblica non finisce qua adesso c'è la seconda parte buona sera grazie a tutti